Colonnello Maggiti, report dell'attività della Polizia Municipale nell'ultimo anno, quali sono state le particolarità e le diversità rispetto allo scorso anno? Non è un caso che quest'anno, dal 2010, è stato rilevato il minore numero di infortuni stradali, 639 contro i 1051 del 2010, questo da una parte testimonia sicuramente la riduzione del traffico e quindi anche la riduzione di condotte contrarie al codice della strada, dall'altro testimonia che effettivamente anche la nostra presenza sul territorio sta dando buoni frutti anche in termini di prevenzione. Quest'anno siamo arrivati, per il codice della strada, a circa qualcosa in più di 55.000 verbali, in controtendenza rispetto ad un dato nazionale in cui si è registrata una flessione del 12,5%. Noi siamo stati più attivi, più impegnati sulle strade rispetto al 2013, quando stavamo sui 48-49.000 verbali, 2012 sui 52.000 verbali. Questi sono dati che ci fanno riflettere sulla maggiore presenza di un maggior numero di persone sulle strade, sulla maggiore volontà e necessità di essere vicini al cittadino, all'utente che rispetta le regole e soprattutto sulla maggiore volontà di far rispettare quelle che sono le regole di sicurezza stradale. Grazie. 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 Grazie.